Iniziamo con il lotto numero 1, siamo collegati con i telefoni Eleonora e Umberto. Il lotto numero 1, Andy Warhol e Marilyn Monroe, 1126, 91x91, una serigrafia a colori, certificato di autenticità rilasciato dall'editore Morning, viene messo in gara a 300 euro di base d'asta, 300, 350, 400, 450, 500 euro per offerte ricevute al banco, 500 banco, cosa mi dicono i telefoni? 500 banco, aspetto 550 dai telefoni o dalla sala o dal web? 500 il mio per il banco, 550 sala, 550 sala per la prima, 550 sala per la seconda, se non vedo altre offerte aggiudico in sala 550, 550, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, sala. Lotto numero 9. Lotto numero 9. Litografia a colori, 31,5x23,5, stampatore Murlò viene messo in gara a 350, 400, 450, 500, 550 per varie offerte ricevute al banco, 550, 600 telefono, 600 Doriana, Eleonora mi fa 650, 700 Doriana, 700 Doriana, 750, 800 Doriana, 800 Doriana, 800, 850, 900 Doriana, 900, 950, 1, 100 Doriana, 1000 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 Euro per la prima, 1000 Euro per la seconda, se non vedo altre offerte aggiudico a Doriana a 1000 Euro, 1000 Euro, 12, 123, telefono Doriana, 1000. Lotto numero 21, il lotto numero 21, io non posso venire, Emanuele per favore, vai da Eleonora. Gianni, per cortesia, lei oggi non perda la calma, perché io sennò dopo mi danno il premio. Perfetto. Non so come faccia, ma va bene. Il lotto numero 21, Lucio Fontana, concetto spaziale, litografia a colori, 50 per 35, ditemi se siete tutti quanti collegati, esemplare 23 su 150, l'opera è firmata in basso a destra, è numerata in basso a sinistra, a matita. Lucio Fontana. Lucio Fontana. Lucio Fontana, concetto spaziale. Spaziale, litografia a colori, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 1000. Chi mi fa 1100? Aspetto 1100. 1100 Gabriele. Aspetto 1200. 1300 Doriana. Aspetto 1400. 1300 Doriana. Aspetto 1400. 1300 Doriana per la prima, 1300 Doriana per la seconda, 1300, 12, 123, 1300 Doriana. Lotto numero 75, Vasareli 1972, lastra di alluminio serigrafata, produzione dandienese, esemplare, eccolo qui. Opere scritta con data e numero in basso a destra, 100% le dimensioni, 800, ero la base d'asta, confermata, 800 per il banco, 850, mi fa 900 il telefono? 900, 900, 950, 950 la sala, 1000 il telefono? 1000 il telefono. 1100 la sala. 1100 la sala. 1200 il telefono? 1200. 1300 la sala. 1300 la sala. 1400. 1500. 1500. 1500. 1500 per la prima, 1500 per la seconda, 1500, 1,2, 1,2, 1,2, 3, grazie. 1500. Lotto numero 78. Robert Indiana, Love. E un arazzo, 36,5 per 36,5, viene messo in gara, 250, 300 euro per il banco. 300 banco, Doriana mi offre 350 sala, 350 sala, i telefoni mi fanno 400, 350 per la prima, 400, 450 sala, 500, 500, 550 sala, 550, 600 telefono, 650 sala, 650 sala per la prima, 700 telefono, 750 sala, 750 sala per la prima, 750 per la seconda, 1,2, 1,2, 1,2. 1,2, 1,2, 3, 750. Il lotto numero 80. Adesso però mi confermate che funziona? No. Ok. Il lotto numero 80. Piero Simondo, olio su masonite, opera proveniente dall'eredità di Pinò Galizio. Come da certificato il Tribunale di Alba, viene messo in gara, 500, 550, 600 euro per varie offerte ricevute al banco, 650 sala, 700 sala, 750 sala, 800 sala, 850 sala, 900 sala, 950, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000, 2.200, 2.2, 2.3, 2.4. 2,4. 2,4 per la prima, 2,4 per la seconda, 2,5. 2,5 alle sue spalle. 2,5 per la prima, 2,5 per la seconda, 1,2, 1,2, 3, 2,5. Il lotto numero 88 è fuori sul davanzale, è appoggiato lì, accanto alla donna, ed è Bruno Munari, del 1988, una scultura in vetro su base in acciaio, altezza centimetri 29 per 9 per 9, un multiplo esemplare 81 su 100. L'opera è firmata, datata e numerata alla base, viene messa in gara a 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 euro, 1,2, 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 1 Aspetto 1100. 12.00 sala. 12.00 sala. Aspetto 1.00 e 3.00 dal telefono. Aspetto 1.00 e 3.00 dal telefono. 1.00 e 2.00 sala. 1.00 e 2.00 sala. 1.200, per la prima, per la seconda, 1, 2, 3, grazie. Lotto numero 95, Pietro Morando, mercato del bestiame, è un piatto in ceramica invetriata, diametro centimetri 50,5, ceramica rossicone Milano scritta al retro, 300, 350, 400, 450, 500 euro per varie offerte ricevute al banco, 500 banco, Eleonora mi fai 550? 550 sala, aspetto 600 dai telefoni, 550 sala, 550, 600 sala, 650 sala, 650 sala per la prima, 650 sala, 700, 750 sala, 750 sala, aspetto 800 dai telefoni o dalla sala, 750 sala, 750, 1, 2, 1, 2, 800 sala, 8,50, 8,50 per la prima, 8,50 per la seconda, 8,50 per la prima, per la seconda, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 850 euro. Lotto numero 122, sono fuori, il lotto numero 122, Tuberowski, Paolo, Pavel Petrovic, Cavaliere del Rodeo, 1935, una scultura in bronzo, altezza centimetri 38, l'opera è firmata e adattata in corrispondenza della base, viene messa in gara a 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.000, 3.250, 3.000 e 5. 3.008 per varie offerte ricevute al banco 3.008 per il banco 3.008 per la prima 3.008 per la seconda se non vedo altre offerte o giudico al banco a 3.800 euro 1.002 1.002 3.008 l'otto numero 154 caro Rama del 2005 tecnica mista su carta stampata 44 per 31 l'opera è firmata e datata in basso a sinistra con dedica viene messa in gara 800 850 900 950 1000 1100 1100 per varie offerte ricevute al banco aspetto 1.002 da Doriano o dalla sala 1.002 1.003 Umberto 1.003 Umberto 1.004 Doriana 1.003 Umberto per la prima per la seconda 1.002 1.002 1.003 Umberto tuo 1.003 Umberto 1.003 Umberto 1.003 Umberto 1.003 Umberto 1.003 Umberto 1.003 Umberto